Benvenuti amici su Gamecube Channel, qui è sempre il vostro Piffmage che vi parla ed eccoci a questo terzo episodio di quella che in teoria sarebbe dovuta essere una one shot ma è diventata la serie di Sgt Simulator. Bene, quest'oggi ci tocca un'operazione letteralmente da perderci la testa, i nostri amici zombie da casa saranno contentissimi perché si tratterà di un trapianto di cervello. Quindi con tocco sicuro e delicato procediamo con questa operazione di neurochirurgia. Bene, 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 bene. Oh ecco il caro Bob. Oh quanto sei carino. Anzitutto vediamo che cosa abbiamo qui a disposizione. Uh il laser, interessante. Abbiamo un... Oh! Un'accetta. Ma sì perché non usiamo i giusti attrezzi. Noi siccome siamo super partes noi accettiamo ogni novità tipo questo. Quindi con delicatezza per evitare danni neurologici noi prendiamo bene la mira e poi... o tre. Niente. Questa accetta deve veramente scaffante. Niente. Non funziona. Che schifo. Ma l'immaginavo meglio. Bom. Proviamo con questo allora. Proviamo con la se... Questo cosa dovrebbe rappresentarmi? Sì. Vieni qui sega. Ok perfetto. Vediamo se così funziona meglio. Ci facciamo qua. Abbiamo una bella segatina con delicatezza. L'importante è tutto nel movimento oscillatorio del polso. Eh. Vai. Eh. 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 Perfetto. E non sta neanche sanguinando per ora. Ah. Che gioia. Ops. Vai via. Proviamo questo. Sembra un arnese gustoso. Vieni qui. Ok. Abbiamo il laserone. con delicatezza senza ammazzarlo magari. Dio il danno. Basta. 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 Fai un attimo. Prendiamo la siringa verde. Ho detto verde ma la sorte. Ecco qui. Vieni. Vieni da babbo. Piano. 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 Perfetto. 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 Per entrare prima in circolo li affichiamo in un occhio. Qua. Non guardare. Fa impressione. Vediamo se riusciamo a rimuovere la calotta. Qua. Il giusto sistema è grattar via le ossa con le unghie. Niente. Vediamo con un tocco leggermente più. Vieni qui. Perfetto. Con un tocco leggermente più deciso. Tipo così. Ops. Bene. Perfetto. Perfetto. Come sempre le buone maniere si rivelano le migliori. Ci va sempre mia madre. Continuo a dirlo tra l'altro. Ecco. Questo pezzo non se ne vuole andare. Perfetto. Perfetto. Ora riprendiamo la siringa verde perché questo poveraccio sta facendo una fine pessima. tra l'altro però non me ne ricordavo così. Ecco. Un ottimo modo per farsi danno. Non mi ricordavo il cervello così rorato. Oh oh oh. Esci. Esci. Vai giù. Perfetto. Mmm. Brains. Bene. Credo che ora il laserone ci servirà. Di nuovo. Perché è sempre bene fare lavori di precisione. Precisione chirurgica appunto. Ora noi con delicatezza andiamo a recidere questo aggeggio. Che con delicatezza lo stiamo massacrando. Vediamo se riusciamo a impedirgli di morire di morte orribile. No, non morì. Ok. Ops. Stava andando tutto così bene. Poverino. E proviamo. Che se non si riesce la prima volta prova ancora. Quindi stavolta proviamo con un metodo più classico. Tu. Oh perfetto. Perfetto. Diamoci un taglio. Dai eh. Oh. Magari non sulla. Sulla pellecchia. Eh. Non sembrava così testa dura il signor Bob. Ops. Piano. Piano. Eh dai. No Tormonco ce la puoi fare. Oddio. Il danno. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Ancora un po', ancora un po', ancora un po'. Ancora un po', ancora un po'. Toh, toh, toh. Basta. Come l'impressione che anche questo sia morto. Vabbè, morto per morto. Molla. Non è stata una brillante idea. Un po' di impugnare questo martello che possa venire utile alla bisogna. Così magari. Ferro 10. Ops. Toc toc. Toc toc. Sta arrivando più complesso del, del previsto tutto ciò. No. Mala sorte. No, no, non cadere. No, 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 no. Vieni qui. Aha. Bene. Wow. Wow. Come quante idiozie. Va bene. Non ho più l'idea di quella sia colaccio in un momento ma va bene. Dunque lo voglio riprovare. Quindi. Andiamo se riusciamo a fargli decollare il cervello un'altra... Cioè la calotta cranica un'altra volta. Aha. Vieni qui. Toc. Toc toc. Niente. Questa sanguina profusamente ma... L'osso non si rompe. Basta. Rompi tutto. Facciamo così. No. Eh. Con decisione. Ups. Tardiamo l'orologio in effetti. Con decisione. Basta. Basta. Wow. Forse riusciamo anche a recuperarlo. Che classe signori. Piano piano gli iniettiamo un po' di sbubba. Ecco. Ok. Ora prendiamo questo. Vieni qui. Fido martellone. Oh. Martellone non andare via. Martellone non andare via. Ups. Stavo già facendo danno. Mottarella qui. Con delicatezza. Una volta che il regalo è stato... Bello. Aderizzati. Ancora un po'. Ancora un pochettino. Ancora appena. Eh. Basta. Perfetto. 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 Un altro po' di... Moccio verde. Bene. Mi ha smesso di sanguinare. Se potrebbe di sì. Questa la depositiamo con gentilezza qui. E andiamo a svegliere l'encefalo. Fini che... Oh. Benissimo. Eh. Molla. Mollami. Ok. Bene. Ora piano piano prendiamo un bisturi. Ecco. E ora viene la pa... Eh. Piano. Ora viene la parte divertente. Tagliati. Su. Opla. Dai tre punti signori. Ok. Andiamo di prendere il nuovo. Pesca miracolosa. Upp. Esci. Esci. Guardate che carino. Mmm. Appetitoso. Entra. Entra. Al contrario. Mi fa uguale? Apparentemente. Oh sì. Apparentemente sì. Perfetto. È stato più facile del previsto. A parte... Qualche piccolo incidente di percorso. Bom. Continuiamo. Vabbè. Visto che ci abbiamo messo così poco. Perché non fare direttamente un doppio episodio e passare direttamente... Uh. Trapianto d'occhi. Questo sembra divertente. Via. Ok. Iniziamo l'operazione. Quindi adesso dovremmo cambiare gli occhi al caro Bob. Vediamo. Eh. Sì. E come dovrei cambiare gli occhi se... Questo... A parte che sembra in botta. Mamma mia. In occhiali. Proviamo a togliere. Eh. Proviamo a togliere. Molto. 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 Ok. Io non volevo farlo. Però mi ci hai costretto tu figliami. Proviamo. Eh. Forbici. Ho detto. Forbici! Bene. Vediamo se... Con questo riusciamo a... Si a cavagli un orecchio magari. Eh. Eh. No. Eh. Niente. Le forbici sono inutili. Cosa mai potremmo usare? Questo che cacchio è? La gigio per togliere i peli dal naso? Ma si proviamo. Vediamo che fa. Apparentemente non fa nulla. No. Ok. Sì. Depiliamogli le orecchie. Oh Bob. Un po' di toaletta. Che cosa c'è già? Non serve a nulla. Proviamo a usarlo da... Oddio. Casino. Facciamo. Questo non ci serve. Ciao. Ok. Proviamo col... Ma si. Proviamo con questo. Quando sei in dubbio. Funziona. Toc. Toc toc. Quasi andato. Andiamo a svegliere. Sta porcheria. Oh. Oh. È per il bene della scienza. Stai fermo. Perfetto. Ora. Vediamo se questa treccolo ci può servire per... Beh. Abbiamo perso l'arnese. Adesso a questo gli occhi comedi di caviano. Ci sono. Questo mi sembra l'aggeggio più adatto. Scendi. Alla. Alla. Vai. Perfetto. Sì. Credo che questo servirà allo scopo. Apri grande. Eh. 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 È inquietantissimo. Questo cosa sembra posseduto dal demonio. Esci. Apparentemente il cucchiaino non ci serve. Eh. Oh. Sì. Sì. Prendiamo con questo. Credo che... Questo magari potrà servire a cavagli un occhio. Su Bob. Abbi un occhio di riguardo per la chirurgia. Eh. Esci. Vai dentro. Oh. Wow. Scusa inquietantissima. Prendiamo una seringa verde al volo. Eh. Cazzo. Ops. Qui. Piano 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 piano. No. Non cadere. Esci. Perfetto. Fuori. Ok. Dicevamo. Prendiamo la seringa verde. A momenti ci pungevamo. Brutto. To. To. Perfetto. Poggiamo qua magari senza pungerci. Perfetto. Perfetto. Ora vediamo se funziona. Con decisione prendiamo questo. E... Tiri. No. Con decisione afferriamo... L'arne. No. Oh. Io che credo fosse più semplice levare io che a qualcuno. Proviamo così. To. Pugno. Vai. Fulmine di Pegasus. Tie. Niente. Un cacchio. Vieni qui. Proviamo a infilargliene un altro. Anzi. Pizzette. Vero. Forse le pinzate ci verranno in aiuto. Eh. To. 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 No. Non to. Pizzette non ci sono venute in aiuto. Andiamo a questo. Sì vabbè perfetto Esci Oddio Allora era questo che è l'arnese giusto Proviamo a infilagliarlo di nuovo Anzi aspetta 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 Si sta dissanguando Prendiamo Questo Vieni qui Ho detto vieni Perché mi fai questo Ok bene Come nuovo E vai Riusciamo a levargli anche quest'altro Perché non si vuole far prendere Questo Stupidissimo bisturi Oh di lusso Vai Tira Oh Wow Chiamavano bello sguardo Deve essere imparentato col maiale Della Super porcetto racer x Come glielicavo del tutto Forse devo infilagliarlo di nuovo Però così non ci riesco Ops Andiamo a prendere un altro Prendiamo a prendere un altro ornese Bene Stai fermo No Teoria come Malanno dovrei Dovrei Basta Proviamo così Uno mi serve Devo tagliare ossa Proviamo così Oddio ha funzionato sul serio Stiamo scherzando Vabbè Ancora un po' Wow Sei bellissimo Oddio è bellissimo Devo subito salvarlo Prendi 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 No Prendi 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 Al volo dai che sta morendo E va FAN Sto prendendo di tutto Tranne quello che mi serve Ok fantastico Basta Basta Oh Wow 666 mililitri di sangue Fico Un'operazione demoniaca Con delicatezza andiamo a Recidere il nervo ottico Piano Vai Tanto non ce l'ho da vedere Bob Ah te ne escano gli occhi To Le hanno Eh Ah Ancora appena appena No Perché Bene Fuori uno Sotto a chi tocca C'è a te Ok Calma il gesso Dai Puoi sempre chiudere un occhio Bob Non te la prendere Ops Ok Dai Invece di sanguinare Taglia Abbiamo fatti squartare Bob Sulla testa Con orgoglio Così Secco Fermo Dai che ti rimane poco sangue Non mi va di ammazzarti Bene così Taglia Taglia Oh Era ora Ora Fermiamo l'emorragia Proprio a un volo L'ho preso Sì In pieno La droga Ho preso Male sorte Scapisce più Una Accidente Di niente Perfetto Prendi questa Stupidissima Siringa L'agnetto Con questa Presa Così Ci sono To No Non to Dai e pungiti Maledetto To Perfetto Ora tu stai a capire Dove stanno gli occhi Ah Eccoli Quindi con gentilezza Teniamo qua No meglio qua Su Vediamo un po' cosa abbiamo No oddio Cos'è quella cosa Molla Mollami Ciao Oh è volato Cos'è questo Ma no Perché ma l'hanno Si è infilzato No la volevo mettere Ma è una gioia Dobbiamo smottere anche questo Magari ce n'è un'altra Su E infatti la No 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 Vieni qui Ti voglio bene Non cadere Non cadere Vieni qui Vieni qui Figlio di un cane Ti odio Vabbè Usiamo questo Quindi con delicatezza Prendiamo un occhio Andiamo a riposizionarlo al suo posto è carino con lo smile prendiamo questo ok come non detto prendiamo questo no questo e lo prende signori che manualità vai è al tuo posto entro e vai proprio un colpo d'occhio di tutto rispetto bene direi che per quest'oggi possiamo anche concluderla qui in questo episodio più lungo del normale e niente se vi è piaciuto commentate mettete mi piace scrivetevi come volete se non vi è piaciuto fatetelo sapere così possiamo migliorarci ogni giorno un po' un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci seguono ovviamente anche a quelli che lurcano e fanno finta di non seguirci tanto lo sappiamo che ci seguite ah 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 la faccia vostra e niente grazie ancora spero vi sia piaciuto e ci vediamo sempre qui su Gamecube Channel alla prossima dal vostro PiffMage ciao